Custodia cautelare per il sindaco di Lodi, come Movimento 5 Stelle avevate già denunciato alcune perplessità per quanto riguarda la gestione delle piscine nell'Odigiano. Esatto, il Movimento 5 Stelle nello specifico aveva contestato il fatto che il bando di assegnazione di queste piscine fosse stipulato sull'offerta economica più vantaggiosa, quando invece in realtà al suo interno il 90% dei punti venivano assegnati in base a criteri tecnici e non economici, relegando quindi la questione economica a un fattore marginale. Quindi questo ha portato che l'azienda che ha vinto il bando non fosse quella che aveva fatto l'offerta economica migliore. Di fianco alla piscina per cui il sindaco è stato arrestato ce n'è un'altra che è stata fatta con un progetto di 13 milioni di euro, voi che cosa contestate in questo caso? Allora, il Movimento 5 Stelle riguarda questo aveva presentato un esposto alla Corte dei Conti in quanto riteniamo che i cittadini lodigiani abbiano subito un danno erariale derivante dai ritardi della consegna e dell'incompletezza dei lavori. Avevamo contestato infatti la dimensione, l'importo di questa struttura, denunciando che difficilmente sarebbe stata poi sostenibile nel lungo periodo. I fatti purtroppo ci hanno dato ragioni. In due anni la piscina ha chiuso con due bilanci in passivo e una società, la prima che la gestiva è già fallita. La società che attualmente gestisce la piscina è la stessa del bando incriminato. È un fulminace sereno, non ci saremmo mai aspettati un provvedimento di questo genere per Simone. Siamo anche certi della correttezza di Simone, persona onestissima. Tutto quello che ha fatto nella sua storia politica è al servizio dei cittadini, quindi siamo certi del fatto che sarà presto scagionato. Abbiamo fiducia anche della magistratura. Speriamo che faccia in fretta a fare chiarezza perché questa città, questo capoluogo ha bisogno di un sindaco che possa gestire bene, come ha fatto Simone in questi anni, l'attività amministrativa e siamo vicini alla sua famiglia. La giunta va avanti comunque? La giunta va avanti, il vice sindaco ha tutti i poteri per poter esercitare il proprio mandato e abbiamo solo bisogno che ci vengano date presto delucidazioni su una vicenda che ha molto da essere chiarita. Grazie a tutti.